me lo ricordo uno che sono andato a scalare e poi dopo una settimana mi ha mandato una poesia sulla salita che avevamo fatto quello mi è rimasto impresso arrivato forse da novara da qualche parte così più esigenti comunque l'italiano è un cliente molto esigente rispetto a uno straniero che si adegua capisce forse un pochino di più le problematiche più disponibili cliente pigri no clienti non allenati ecco quelli sì volevano fare delle cose poi effettivamente non erano in grado perché mancava l'allenamento in quel caso pazienza 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 ma no di solito si arriva sempre se si mette tanta pazienza e tanta buona volontà si riesce a trovare il giusto equilibrio arrivare dove si voleva arrivare perché poi il bello è raggiungere l'obiettivo o comunque trovare un obiettivo magari diverso non quello che si era prefissato per dare soddisfazione ai clienti e poi nello stesso tempo gratificare la guida che ha raggiunto la possibilità di accontentare i clienti grazie a tutti